Le Terme di Caracalla ospitano iniziative di arte contemporanea e ora il maestro Penone porta all'interno delle Terme, dentro la Natazio, quattro alberi che sono di acciaio, di bronzo e di pietra e sono opere iconiche dell'arte del maestro piemontese. La possibilità di installare delle opere in questo contesto per me è stato un regalo, che è una cosa fantastica. In questo caso abbiamo la rovina, il fatto che la natura si riappropria del manufatto umano, abbiamo la crescita del vegetale che è attratto dalla luce, quindi questo elemento di vitalità, di germinazione e abbiamo il peso delle pietre, che è il peso della gravità e che va verso l'ombra della Terra. e racchiudono nel loro interno miliardi e miliardi di cristalli, quindi potenzialmente di idee. Idee di pietra, il progetto di Giuseppe Penone alle Terme di Caracalla, combina il tempo archeologico con il tempo culturale e il tempo naturale. Giuseppe Penone ha avuto la capacità di inserirsi nella Natatio in un modo dinamico, quindi riprenderei la cerebe frase di Mahler, la tradizione non custodia delle ceneri ma culto del fuoco. Grazie per la visione!